Con particolare considerazione le imprese della somministrazione, le imprese che operano nel settore del turismo che sono state quelle più vessate, abbiamo ricevuto e accolto il grido di dolore e insieme a tutto il Consiglio regionale quindi un ringraziamento anche alle opposizioni abbiamo portato in tempi molto celeri all'approvazione di questa legge che prevede un finanziamento di circa 10 milioni a queste tipologie di imprese dando anche la possibilità in tempi brevi anche ad imprese cosiddette non bancabili che potrebbero avere problemi ad accedere a questo finanziamento di massimo 15 mila euro in tempi brevi con 24 mesi di preammortamento. Penso che sia uno strumento giustamente che ci è stato richiesto da questa tipologia di aziende noi abbiamo accolto subito questa sollecitazione in tempi brevissimi quindi abbiamo dato risposta ad un settore che da troppi mesi sta soffrendo e quindi in questo lasso di tempo ha bisogno di liquidità per ripartire.